Bentornati! Beh, allora, cosa possiamo dire di questo concerto di Capodanno di Vienna 2024? Innanzitutto che è uno dei concerti più difficili da recensire, perché è uno dei concerti al mondo più istituzionalizzati, più incardinati all'interno di un protocollo ormai rigidissimo, che passa da una scelta di un certo tipo di direttore, ancora più alla scelta di un certo tipo di programma, e poi comunque insomma è tutto talmente ben organizzato, ancorché un filo rigido e un filo, come dire, ingessato, ecco, diciamo così, che difficilmente è un concetto nel quale succedono cose impreviste o cose particolari, anche solo dal punto di vista musicale. Detto questo, cominciamo a parlare della scelta del direttore, Christian Tillemann, il direttore che ho visto dirigere diverse volte, e che devo dire che non vedevo tantissimo all'interno di questa kermesse, anche perché lui l'avesse già diretta nel 19, ma io non avevo visto il concetto del 19. Devo dire insomma che è una scelta un po' strana per il semplice fatto che Tillemann generalmente va su un repertorio un po' più pesante, lui insomma è proprio un direttore teutonico come potremmo immaginarlo, quindi che ha in Brahms, in Bruckner, in Beethoven sicuramente, io ricordo di avergli visto fare un Le Prelude de Liszt notevolissimo, però insomma non ricordavo che avesse mai diretto musiche degli Strauss, o comunque di quell'area geografica e culturale tipica, perché poi alla fin fine il concetto di Vienna è questa roba qui, è come dire, se vogliamo, un ritorno a quel mondo austro-ungarico, che ovviamente oggi non c'è più, che però comunque insomma non fosse altro per la bellissima cornice dentro il quale si produce il concetto di fine anno, non fosse altro per quello, insomma è un bel richiamo. Peraltro la sala delle musici Ferrain, che se la vedete al vivo, è molto più piccola di quello che siamo in televisione, in televisione siamo in una sala gigantesca, in realtà non lo è. Resta però una sala di grande prestigio. E resta anche il fatto che questo tipo di concerto, che ormai si è saldato in maniera inequivocabile ovviamente con i Wiener Philharmoniker, questo tipo di concerto con questo tipo di programma all'inizio non era esattamente così, cioè voglio dire che quando si è iniziata la tradizione del concerto di Capodanno negli anni 30, in piena guerra tra l'altro, l'orchestra non aveva grande piacere a suonare la musica degli Strauss, perché veniva percepito come una musica un po' leggerotta, un po' non diversamente da quello che potrebbe essere una pop music, e quindi insomma ci volle parecchio tempo. Però ormai, come dire, il concerto di Vienna è il concerto della famiglia Strauss e di tutti quei compositori che sono ruotati a quel mondo lì, che poi ha reso in realtà il waltzer viennese famoso in tutto il mondo. Però diciamo che all'inizio non era questo il programma che si faceva. E appunto avendo visto dirigere diverse volte Tilleman non mi è sembrato proprio il direttore adatto a questo genere di repertorio. Innanzitutto appunto per una questione proprio di repertorio che generalmente lui dirige, lui dirige sempre tutte cose un po' più miucche, un po' più pesanti. E poi perché, nella mia idea, io non lo conosco personalmente, ma l'idea che mi ero fatto io lo vedevo un po' serioso per questo genere di repertorio. Invece poi alla fin fine devo dire che ha fatto molto bene il suo lavoro, non tanto dal punto di vista direttoriale, che credo sia abbastanza scontato, sia perché ovviamente è un repertorio che l'orchestra conosce a menadito, che potrebbe suonare tranquillamente anche appesa a testi in giù, il che non significa che non ci siano anche dei punti delicati, ma nel complesso non è un repertorio di difficile esecuzione, ma soprattutto è difficile uscire da quella che è la tradizione, da quello che è il suono, che giustamente da un certo punto di vista, cioè nel corso degli anni è stato fatto un suono, un certo tipo di suono cosiddetto alla viennese, con un modo particolare, in particolare in secondi violi, di accompagnare in maniera sincopata i waltzer nello specifico, insomma che ormai è diventato veramente un trademark, per cui è veramente difficile che un direttore vada lì e sconvolga completamente abitudini e sonorità evidentemente, insomma forse l'unico che l'aveva, non vuol dire sconvolto, ma che aveva dato veramente un'impronta personale era stato il buon Arnon Kurt, anche perché ogni anno c'è la tradizione di cambiare direttore ogni anno per il concetto di Capodanno e poi insomma nel corso degli anni quindi si può tornare, credo che uno di quelli che è andato più volte è stato Riccardo Mutti che ci è andato ben sei volte, ha diretto quindi molto bene, con grande sicurezza, con grande eleganza, poi lì ha un modo anche abbastanza particolare di usare la bacchetta con funzione anche dinamica, anche espressiva, usa molto la mano destra e spesso anche usa le mani a specchio, non perché non sape dirigere in altre maniere, ci mancherebbe, ma perché ormai insomma è una caratteristica del suo modo di dirigere, così come è tipico del suo modo di dirigere chiudere in una maniera mai troppo secca, troppo chiara, cioè il chiuso le fa sempre così, come dire, accompagnando con la mano sinistra perché evidentemente non vuole una chiusura secca, una chiusura dritta, diciamo così, ma vuole una chiusura più morbida e che abbia ancora tanti armonici e tanto eco. Dopodiché, mia opinione personale, questo qua non è sul repertorio e continuerà a non esserlo ancora, ma insomma, non possiamo che dire che è diretto bene, ovviamente. la cosa che mi è stupito è il fatto che Timeman, che generalmente dirige sempre a memoria, non abbia diretto a memoria, e questa è la riconferma del fatto che non è esattamente un repertorio che li faccia molto molto spesso, cioè dire diretto con lo spartito, non è che fosse lì incollato a guardare cosa ci fosse scritto, evidentemente, però evidentemente è un repertorio che conosce, che è abbazzicato, ma non abbastanza da permettersi il lusso di dirigere la memoria. Al netto di questo, devo dire che è diretto molto bene, la cosa che più mi è piaciuta è che ha lasciato molto suonare l'orchestra, che è la cosa più intelligente che si possa fare con un'orchestra del genere, insomma, un'orchestra che peraltro conosce da tanti anni, insomma, credo che prima volta siamo andati nel 2000, se non ricordo male, a dirigere i Wiener, quindi più di vent'anni fa, quindi hanno fatto moltissime produzioni insieme, si conoscono, si stimano e tutto, e credo che è veramente la cosa più importante che si possa fare in un caso del genere è far suonare l'orchestra, cioè non stare eccessivamente addosso, non suddividere troppo, insomma, lasciare la possibilità a questi splendidi musicisti di esprimersi e in questo senso, in questo senso l'ha fatto molto bene, forse solo sul Delirion, Valzer è stato un pochettino più, e anche sul Danubio Blu, è stato, però perché quello è, è uno dei punti più delicati, perché è un brano che ha tantissimi ritenuti tradizione, vero è che quest'orchestra potrebbe farlo tranquillamente, anche senza direttore un pezzo del genere, però comunque sì, insomma, è meglio se un direttore c'è ed è meglio se certe cose vengono meglio esplicitate e meglio suddivise. Un po' del, come dire, della sua verve venuta fuori durante l'area Eschimarche, che ormai è un grande, è un grande, classico, si fa spesso anche i nostri concetti di Capodanno, e sulla tradizione viennese di battere le mani, durante il tema famosissimo, lo si fa anche da noi. Detto questo, non dimentichiamoci, perché è stata scritta Radeschi Marche, forse è il caso che qualcuno si studi un pochettino, la storia, e non dimentichiamoci che Gennaro Radeschi in Italia non è che abbia riusciato proprio di gran bei ricordi, però insomma ci mancarebbe, sono passati tanti anni, ed è chiaro insomma che la parte musicale è andata sicuramente a sovrastare quella storico-politica, evidentemente, non è che possiamo stare qui ancora a rivangare cose di 160 anni fa, o giù di lì, però insomma, sta di fatto che solo per saperlo, ricordiamoci per quale ragione è stata scritta la marcia di Radeschi, insomma. L'altra cosa che mi ha piacevolmente sorpreso è stata la scelta del programma, che se dovessi scommettere è stato concordato con il direttore, e in effetti, perché è stato interessante questo programma? Perché sì, vabbè, al netto, lo sapete, lì c'è un programma ufficiale e poi ci sono i due bis che sono The Numbia Blue e la marcia di Radeschi, quindi questi ultimi due pezzi sono ineliminabili dal concerto. Intanto mi è piaciuto che quando lui ha rivolto le tradizionali, sono due parole di augurio al pubblico, abbia fatto un riferimento anche alla guerra, insomma, mi è sembrato, nessuno ha la pretesa che un evento musicale possa cambiare le sorti del mondo, insomma, però mi è sembrato un gesto doveroso e anche giusto da fare, insomma, in questa occasione. Al netto di questo, dicevo, mi è piaciuta la scelta del programma, che non è stato il solito programma con i soliti waltzer di Strauss, ci sono stati evidentemente, perché insomma, è una cosa ineliminabile, ormai se vogliamo, la famiglia Strauss e in particolare Jonas Strauss figlio è diventato veramente l'emblema del suono viennese, o forse proprio la città di Vienna, insomma, forse musicalmente uno pensa a Vienna, pensa ai waltzer di Strauss, ecco, vero è che quando Strauss li scrissero una musica da ballo abbastanza popolare, dove l'aggettivo popolare non è esattamente inteso nella sua accezione più positiva, però sa di fatto che poi col tempo questo qua ha diventato una musica abbastanza raffinata, abbastanza sofisticata, che piace ai signori in smoking e alle donne in gioiellate, quindi va bene così, però dicevo, al netto di questo il programma è stato interessante perché si sono tirati fuori un paio di autori che si sentono ogni tanto nei concerti di Vienna, ma che nel complesso hanno tolto spazio alla famiglia Strauss, in particolare Helmes Berger che è un compositore che, mia colpa, conoscevo poco, e ho avuto l'opportunità di conoscere recentemente perché con la mia casa editrice abbiamo pubblicato proprio un suo brano e quindi questa è stata l'occasione di approfondire un po' il suo repertorio, il suo catalogo e insomma sono tutti compositori che vengono appunto da quella tradizione sì popolare, dove per popolare si intende il fatto che scrivessero musica spesso di musica da ballo, ecco il perché dei waltzer, ecco il perché delle polca, delle polca schnelle, eccetera eccetera, erano più pezzi pensati per il ballo che non per essere eseguiti in concerto, dopodiché col tempo hanno perso almeno una parte del loro accompagnamento alla danza e sono nientati i pezzi da concerto a tutti gli effetti. Per cui a coloro che trovano il concetto di Capodanno di Vienna un po' noioso e un po' ripetitivo dico fondamentalmente ce ne fossero tanti di eventi musicali di musica classica che sono trasmessi da 120 paesi in diretta insomma è una cosa che può far solo bene solo bene alla musica. Detto questo sì forse c'è un po' di sciovinismo austriaco nella scelta dei programmi però insomma ognuno giustamente a casa sua fa un po' il cavolo che vuole insomma ecco quindi qualcuno dice sì però si potrebbe ampliare il repertorio anche ad autori principalmente gli autori non sempre austriaci a volte tedeschi o a volte ungheresi o cechi insomma comunque ovviamente nell'ambito di quella che era appunto l'impero l'impero austro-ungario che insomma mi stupirei se un domani ci trovassi delle musiche di Verdi o di Rossini evidentemente insomma. Prima di chiudere vi ricordo a proposito di Christian Tielemann che tra pochi giorni ci sarà il video dedicato al suo mentore un certo Herbert von Karajan Alla prossima!